ciao ragazzi stavo preparando le videoclip sul mercedes integro e mi è capitato tra le mani esattamente questo che è uno dei due integro 15 metri che abbiamo in flotta mi sono accorto ieri sera leggendo il turno che avevo dal numero di matricola che oggi avrei avuto questo per cui ho preparato le telecamere e oggi vi racconto un po questa macchina vi faccio un point of view vi faccio un po di riprese la tratta è molto semplice vado su e giù praticamente da udine strade abbastanza lineare abbastanza larghe perché con questo altrimenti non si passa dai vi faccio uno start non tanto cold vi racconto qualcosa metterò un paio di punti di vista esterni vi porterò con me sulla tratta per vedere come si comporta su strada questa macchina che è un 2006 molto buono molto ben tenuto non tanti chilometri mi piace gran macchina gran 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 macchina adesso con un quarto d'ora vi registro lo start che andrà in apertura video e inizio a piazzare un paio di cam eccolo qua senti come buona il motore mercedes era uno start quasi cold non era proprio cold cold ma era fermo da cinque ore per cui comunque basso di temperatura extra lungo attenzione ma è un'altra cosa che andrà inizio a un'altra cosa di usare il caso di camminare un po' di camminare un po' di camminare un po' di camminare un po' di camminare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti